Il significato della Pasqua è molto interessante in realtà, al di là del fatto che siate credenti o meno, il significato della Pasqua è davvero molto molto interessante. Andiamo a curiosare un attimo insieme perché ci volevo pensare un attimo con voi. Il significato della Pasqua, lontano da quello che si crede, non è originariamente quello della rinascita di Gesù Cristo dopo la morte. Questo arriva giustamente con il Nuovo Testamento. Ma se andate a leggere il Vecchio Testamento, io tra l'altro poco tempo fa ho proprio letto l'episodio della nascita della Pasqua, il Vecchio Testamento, la Pasqua coincide con il momento in cui il Faraone lascia andare finalmente gli ebrei dalla terra d'Egitto per opera di tutta una serie di miracoli che vengono appunto fatti contro il popolo egiziano. La Pasqua, Pesach, vuol dire semplicemente passare, passare oltre, attraversare. Non vuol dire rinascita come poi vorrà dire dopo l'Antico Testamento, dopo il Nuovo Testamento. Però per noi la Pasqua è un momento di rinascita, perché comunque come rito, per chi ci crede, per chi ci sta dietro, quello che si fa solitamente è fare questi 40 giorni in cui si osservano delle regole di tipo alimentare solitamente e poi quando arriva la Pasqua ci si mette a mangiare tutti insieme con la famiglia, ci si ritrova, con la famiglia o con gli amici, insomma. E si ha questo momento, poi c'è la Pasquetta, eccetera. Allora, qual è il significato della rinascita? Come si fa a fare la rinascita? La rinascita presuppone soprattutto la possibilità di cambiare. Voi direte, vabbè, che banalità. Sì, ma cosa vuol dire questo? Cerchiamo di scavare un pochino di più. Come si fa a cambiare? Perché se io da domani invece di bere del vino tutti i giorni decido di bere dell'acqua, ho fatto un cambiamento? In teoria sì, però questo cambiamento non è un cambiamento immenso, è un cambiamento che bisogna vedere quanto dura perché io potrei smettere di bere il vino e poi dopo una settimana che non bevo vino mi sento bravissimo e dico, vabbè, ora mi posso anche concedere un bicchiere e mi spacco di vino poi per 5 mesi perché ho ritrovato il gusto del bere che prima avevo un po' perso perché bevevo tutti i giorni un bicchiere poi invece una settimana sono stato senza allora ho una voglia di bere enorme. Questo ovviamente non è un cambiamento, sì, è un cambiamento, però non è molto utile se vogliamo davvero smettere di bere il vino. Ammesso che vogliamo smettere di bere il vino perché non è detto, è solo un esempio. Allora, quello che va cambiato è capire innanzitutto perché facciamo quello che facciamo dopo aver capito quello che facciamo, cercare di trovare qualcos'altro che risponda a quel bisogno cioè, faccio un esempio su me stesso, io mi ammazzo di dolci io proprio i dolci, lo zucchero, il cacao, la cioccolata, una roba terribile si vede anche, no? Non è che abbia proprio l'aspetto di uno scheletrino deperito perché? Perché questo era l'unico legame che mi restava negli ultimi anni di vita con mia nonna ora mia nonna in realtà era una persona di una grandissima levatura intellettuale dirigeva diversi teatri ad Arezzo era professoressa di pedagogia insomma, non stiamo parlando di una persona che tranne mangiare le torte non faceva nient'altro però negli ultimi anni della vita io non so se queste possano essere già state le avvisaglie dell'Alzheimer o altro però sta di fatto che negli ultimi anni della sua vita non c'era tutto questo dialogo con la mia nonnina e io alla nonnina gli volevo tanto bene, davvero tanto bene perché c'ero cresciuto, perché come molti bambini succede che vogliano molto bene alla nonna e io volevo bene alla nonna allora bisogna riuscire a capire non solo che questo viene da qui ma anche cosa fare al posto di questo per esempio, io forse mi potrei dare allo studio della pedagogia mi potrei dare allo studio di qualcosa a fare teatro, a lavorare fare qualcosa che mi colleghi mi faccia sentire in dialogo, in intimità con lo spirito, il ricordo, se vogliamo, di mia nonna cioè per me questa dipendenza dallo zucchero che poi se non è zucchero a volte compro anche la cioccolata senza zucchero però alla fine mi ammazzo di cioccolata senza zucchero ingrasso lo stesso, ingrasso meno, meglio però c'è una pasticceria a Firenze meravigliosa due pasticcerie, c'è il Rowe a Firenze c'è Vito Cortese, fanno dolci vegani e senza zucchero sono meravigliosi però purtroppo questo comporta anche un po' di ingrassamento allora se tu fumi perché fumava il babbo, perché fumava la mamma, perché fumava il nonno chiediti in quale altro modo puoi interagire con questo tuo bisogno puoi dar da mangiare a questo tuo bisogno puoi soddisfare questo tuo bisogno senza passare da cose che ti possono creare dei problemi dei problemi fisici di lunga scadenza allora bisogna capire cosa vogliamo cambiare bisogna capire perché abbiamo l'abitudine che abbiamo in questo momento e bisogna anche capire come fare a allearsi con noi stessi perché un errore classico che facciamo sempre noi è quello di pensare di combattere contro noi stessi perché noi abbiamo molto questa latinità del vincit qui se vincit vince chi vince contro se stesso il che è vero perché se riesci a gestirti se riesci a star bene con te stesso se riesci a farti fare quello che vuoi poi vinci tutto notorio che il capo, quello più bravo di tutti è quello che innanzitutto si sa controllare lui allora bravissimo, disciplina alimentare fa sport, fa tutto la gente lo segue di più perché vedono che lui ha una disciplina che lui è una persona credibile che innanzitutto lui stesso si crede e si segue e allora però bisogna capire in che direzione vogliamo andare e bisogna capire come farlo molto spesso la maniera migliore per disciplinarsi non è andarsi contro ma come diceva Michel de Montaigne Michel Eichem, signore di Montaigne nato in Francia, passato alla storia appunto come Montaigne il famoso filosofo Montaigne che poi è stato un po' il Dante della Francia perché ha fondato la lingua francese ecco come diceva Michel Eichem, signore di Montaigne bisogna allearsi con se stessi se si vuole riuscire a sconfiggersi perché noi stessi se siamo amici di noi stessi poi dopo vinciamo facile se invece apriamo una guerra ci sono sempre vinti e vincitori meglio trovare del compromesso compromesso può essere una via senza appunto invece di un bicchiere di vino tutti i giorni bevo un bicchiere di vino tutte le domeniche beh, è già un compromesso un'altra cosa può essere perché io bevo questo bicchiere di vino e attuare il meccanismo il fare il lavoro che consigliavo poco fa io comunque vi auguro una meravigliosa Pasqua mi auguro che siate tutti molto felici che abbiate delle uova di cioccolato meravigliose però mi auguro che non abbiate solo queste perché io credo che poche volte come in questo momento della storia dell'umanità ci sia così tanto bisogno di risveglio spirituale di cambiare in meglio è vero che io dico sempre che non si migliora mai che non esiste l'automiglioramento che si diventa solo diversi però diciamo che in questo momento storico secondo me assistiamo davvero a un momento in cui le nostre abitudini il nostro fare cose il nostro esistere è molto 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 pesante davvero molto pesante davvero molto controproducente stiamo andando dietro a un treno dietro a una propaganda come dico sempre che vuole l'estinzione dell'umanità anzi la selezione di un piccolo numero di esseri umani che non vogliono il bene dell'umanità che sono pochi appunto andiamo verso la selezione di pochi che avranno grandi servizi potranno essere felicissimi perché hanno il chat GPT computer le cose la grande maggioranza invece l'obiettivo è proprio quella di farla sparire io spero che non si vada in questa direzione perché io personalmente credo che sarebbe meglio essere tanti e felici invece che pochi angustiati che hanno tanti servizi e non hanno bisogno degli altri però con questo odio questa perché per far fuori la maggior parte degli esseri umani bisogna fare un gran casino bisogna ammazzarne tanti bisogna spingerli a a farsi del male questo è veramente brutto cioè se andiamo in questa direzione che gioia di vivere c'è in quelli che rimangono no? ora a meno che questi non siano un manipolo di pazzi sadici cosa che temo che sia vera però non è vita non è proprio vita cioè si selezionano quelli peggiori che vivono peggio che pensano peggio no cerchiamo di modificare il nostro atteggiamento per riuscire a vivere bene in tanti su questa terra perché come ha detto Jeremy Rifkin potremmo essere dieci volte tanti basterebbe avere un minimo di comportamento decente per esempio decidersi a essere tutti vegani perché questo consuma meno e non vegani di quelli che comprano la finta carne vegani che mangiano dall'orto che mangiano che fanno i raccoglitori di frutta e verdura come dall'alba dei tempi ha sempre fatto l'umanità quindi io mi auguro che l'umanità vada nella direzione di essere tanti felici e che ci stiamo tutti e ci vogliamo tanto bene buona Pasqua e migliore Pasquetta a voi e a tutti i vostri cari a voi e a tutti i vostri cari